ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video che devo dire sono incazzato non lo so abbiamo preso un gol al novantesimo la partita ormai che dobbiamo vincere ormai pensavo che ormai vincevamo e invece abbiamo preso un gol al novantesimo per chi secondo voi per colpa del di quel bar di merda perché secondo me era fuori gioco di poco ma era fuori gioco purtroppo manca il bar e quindi abbiamo perso e colpa del bar e poi non si è capito bene novakovic si è trovato lì che il giocatore del flusione ha tirato si è trovato novakovic sulla traiettora e ha tirato ha segnato di punta così un gol un po a cazzo capito alla cazzo di cane quindi abbiamo perso praticamente alla cazzo di cane quindi sono incazzato nero nero c'ho la faccia nera nera fatti si vede faccia nera e incazzato nero abbiamo perso due punti abbiamo perso diciamo che la partita tutto sommato il pareggio è stato giusto però ormai per come era andata la partita praticamente ormai avevamo vinto mancavano tipo quattro minuti ormai avevamo vinto che poi abbiamo avuto anche l'occasione con mancoso che ha fatto un miracolo il portiere dopo che praticamente dopo che praticamente mi hanno salutato e quindi praticamente dopo che diciamo mancoso ha fatto un grandissimo tiro e porti ha fatto una grande parata di così di mano aperta se ti fosse tuffato così come quando si fa il tuffo al mare si è tuffato e l'ha parata proprio aveva fatto la cazzata sul mancoso praticamente che le ha scippato il pallone e bardi piccata l'anculo e cubardi per cincaleccese mi capisce cubardi bardi t'ha riscattato alla fine ma bollati piccata sempre anculo cazzo percato poi hanno probabilmente dell'albero una merda un coglione perché vabbè per fortuna che comunque aciapongo ha ammesso comunque che l'ha che l'ha toccato anche se sembrava che si era tuffato il giocatore piazzatec come cazzo ti chiami chiami se non sbaglio ti chiami piazzatec comunque aciapongo ha detto a fine primo tempo che l'ha toccato a me sembrava praticamente che si era tuffato però comunque il forse è passato in vantaggio con questo rigore un po generoso secondo me è stato un contrasto di gioco abbastanza fortuito che poi comunque aciapongo diciamo che è partito male proprio poi si è riscattato un grandissimo gollo assist di mancoso stop e tira e bardi se l'ha picchiata in culo e cubardi e quindi praticamente meno male abbiamo pareggiato diciamo che il primo tempo ha giocato meglio il frosinone secondo me il secondo tempo abbiamo giocato molto meglio noi infatti il frosinone si è chiuso praticamente anche al primo tempo comunque abbiamo avuto il problema è che abbiamo tanto possesso palla e lecce però non riesce a sfruttarlo questo è molto possesso palla però non ci sono molti movimenti oggi per esempio visto un taxitis un po sottotono anche perché comunque diciamo che questo quando il frosinone l'albero ha regalato un rigore al frosinone perché secondo me è stato regalato non lo so secondo me praticamente i giocatori sono un po incazzati anche taxitis è incazzato quindi praticamente la partita è diciamo è partita un po così all'arrabbiata un po all'arrabbiata capito e quindi sono tutti arrabbiati i giocatori e infatti nel primo tempo hanno giocato abbastanza male il secondo tempo comunque per fortuna siamo riusciti a pareggiare alla fine del primo tempo meno male che comunque al secondo tempo abbiamo giocato molto meglio siamo passati in vantaggio con un gol che comunque ho detto prima che che bari si era appigliato al culo e quindi praticamente poi pensavo che vincevamo invece purtroppo abbiamo pareggiato con un gollo diciamo alla varro perso per la colpa della var che non c'è in serie b non è manco colpa dell'altro è colpa della var che deve essere anche sta cazzo di serie b non solo in serie a quindi praticamente per questo motivo comunque continuiamo la striscia positiva abbiamo pareggiato comunque con un grande frosinone che comunque ha lottato dal primo al novantesesimo minuto ovviamente il lecce si vedeva che era superiore al frosinone sia sulla carta che anche come sistema di gioco però comunque il frosinone ha fatto la sua partita ha giocato ha giocato abbastanza bene lottava su tutti i palloni hanno una buona giocatori con buona qualità tecnica noi diciamo oggi avevamo un po mi dispiace per luciano un po desinfortunato la difesa ha giocato bene quindi dermaco ha giocato bene luciano pure proprio uscito mercadello pure hanno giocato tutti bene quindi alla fine la partita l'abbiamo fatta c'era qualche giocare un po sottotono come ho detto un po come taxidis e paganini pure secondo me stava sottotono infatti l'ha sostituito e quindi coda pure oggi ha fatto un po il compito suo anche ste pischi però anche infatti pure lui è stato sottotito e diciamo ste pischi e coda pure non ha giocato tanto bene sì per come la vedo io comunque ha fatto sempre il suo compitino però ha perso un po di palloni non lo so comunque dai l'importante abbiamo ovviamente mancoso che devo dire assist per la cia pongo e gollo rubato al portiere quindi vabbè mancoso che da dire diciamo che grazie a lui vediamo avanti a vincere perché anche lui mancoso ha tirato e ha parlato alla fine quindi poteva fare doppietta e farci vincere la partita comunque lascia mi raccomando iscrivetevi al canale forza lecce ovviamente super bari merda picchiata di bolancuru e come dico sempre io fanculo a tutti e ci vediamo al prossimo mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate il like ci vediamo alla prossima vi lascio con questo sfondo bellissimo questa campagna bellissima alla prossima